Simulazione non scientifica, non fatela a casa. Ecco come funziona Starship! Aaaaaaah! Ha volato! Ecco come non arriveremo su Marte. Salve, oggi torniamo a parlare di spazio perché tantissime cose stanno succedendo per chi vivesse su un altro pianeta. Oggi parliamo di SpaceX, o SpaceX che dir si voglia, fondata nel 2002 da Elon Musk, azienda che quando è partita veniva data per fallita e presa in giro dalla NASA e da tutti quanti, che poi ha avuto un successo incredibile con il Falcon 9, il primo razzo quasi interamente riutilizzabile, in grado di atterrare su se stesso, cosa che prima era ritenuta letteralmente impossibile, che ha lanciato una testa nello spazio con il Falcon Heavy e che da qualche anno ormai con questa capsulina viene pagata dalla stessa NASA per mandare gli astronauti sulla stazione spaziale, ma soprattutto azienda che nell'ambizione del nostro amico Elon tra qualche anno ci porterà su Marte, forse, chi lo sa. E con che cosa si pensa di farlo? Con Starship. Qua abbiamo un modellino stampato da me, che infatti fa schifo, mentre qui abbiamo questi altri fantastici modellini, super dettagliati, sono uno spettacolo, fatti da questi ragazzi che si chiamano Space Rocket Lab. Vi lascio il link qua sotto in descrizione con anche un bel codice sconto. Quindi abbiamo Starship e abbiamo il Super Heavy. Idealmente si piazzano così e diventano un tutt'uno, che comunque viene chiamato Starship, che poi vuol dire semplicemente nave stellare in inglese, quindi è stupidissimo come nome. Ad ogni modo la primissima cosa da tenere a mente è che qua vedete un modellino tra le mie mani, in realtà parliamo del razzo più grande mai costruito dall'uomo. Super Heavy sono poco più di 69 metri, Starship circa 50 metri, salta fuori un razzo di 120 metri, quindi immaginatevi un palazzo di 30-35 piani più o meno, 9 metri di diametro e un peso totale di quasi 5 milioni di chilogrammi. Mille elefanti, mille. Ora tutto questo è super rivoluzionario, non tanto perché sia il più grande, il più potente, ma per il concetto che sta alla base, sia di come è costruito, sia di come viene utilizzato. Infatti tutto è stato progettato per essere il più economico possibile, per quanto parliamo sempre di cose iper mega costose, sia per come è stato costruito, per i materiali, sia per il funzionamento e per il fatto che sulla carta in futuro sarà quasi totalmente riutilizzabile. Partiamo dalle basi. Materiale, principalmente acciaio. Esattamente quello di cui sono fatte le nostre pentole. Nella fattispecie parliamo di acciaio 304L, quindi un po' più puro, con una miscela particolare di altri metalli, però sostanzialmente acciaio, si sta pensando anche a un altro tipo di acciaio ancora migliore, ma il punto è che si tratta di un materiale molto più economico rispetto al carbonio e tutte le altre leghe usate in tutti gli altri razzi, molto più facile da produrre e molto più facile da assemblare e da saldare, in quanto non ha bisogno di essere messo in delle camere gigantesche per essere cotto. Fondamentalmente sia Starship sia Super Heavy, se vedete, sono fatti da tanti anelli di acciaio che poi vengono saldati. E per farvi rendere conto delle dimensioni, queste sono le persone rispetto a questi anelli. Quindi la prima cosa assurda che ha fatto SpaceX a Boca Chica in Texas, dove qualche anno fa non c'era letteralmente niente, adesso c'è praticamente una città, è stato creare una vera e propria catena di montaggio per produrre un sacco di queste navicelle. Considerate che l'ultima che è stata lanciata è la numero 24. Sulla forma c'è un aneddoto divertente perché per il fatto che appunta, nel podcast di Joe Rogan, Elon ha detto La vorrei più appuntita, riferendosi al film Il Dittatore. Quindi va bene, sicuramente il nostro amico ha delle manie di grandezza, però sa anche scherzare. Il lato nero che vedete è fatto in realtà da tantissime piccole piastrelline, fatte di Tufrock, che è un materiale specifico per resistere a temperature altissime. Poi abbiamo queste quattro alette, che si chiamano Elon Erons, e pensate che sono mosse da dei motori elettrici di Tesla, e alimentati da batterie di Tesla, giusto per rimanere in casa. La cosa fighissima a livello di versatilità è che saranno previste varie navicelle per vari tipi di utilizzi, per portare le persone, per portare oggetti in orbita, per fare rifornimento in orbita, per andare sulla Luna, per andare nello spazio profondo, per andare su Marte. Parola d'ordine, versatilità. Nella parte alta ci sarà il carico, o le persone, mentre qua sotto ci sono i serbatoi. E anche nel caso del carburante, scelta diversa rispetto a tutti gli altri razzi. Infatti sia Starship sia Super Heavy vanno a ossigeno e metano liquido. Perché, prima di tutto, abbiamo troppo metano sul nostro pianeta e dobbiamo in qualche modo disfarcene. Quindi è un combustibile che costa relativamente meno di tutti gli altri. È anche molto più facile costruire un razzo alimentato a metano. Addirittura Relativity Space li costruisce con una stampante 3D. Quindi, fondamentalmente, se usi metano, hai possibilità di fare razzi più semplici, che costano meno, e di cui non hai problemi per lanci che vengono rimandati per parecchio tempo. L'altra cosa interessante di questo carburante è che, volendo, si può fabbricare su Marte. Infatti Marte è ricchissima di metano, c'è dell'acqua sotto forma di ghiaccio, quindi si può tirare fuori l'ossigeno e quindi, potenzialmente, si può fare rifornimento su Marte. Abbiamo parlato di carburante e parliamo di motori. SpaceX ha brevettato questi nuovi motori che si chiamano Raptor. Nel caso della Starship ne abbiamo sei, tre centrali specifici per il funzionamento nell'atmosfera, che tra l'altro si possono direzionare, dopo vi spiego perché, e tre più esterni progettati per lo spazio profondo, quindi per andare nel vuoto. Stessi motori che ci sono sul Super Heavy. Solo che sul Super Heavy ce ne sono una quantità senza senso. questo modellino del booster vecchio, il booster che è stato lanciato, ne aveva 33. Il fatto sta che fa super ridere perché ci sono tanti piccoli motorini Raptor. Adesso siamo a 33, ma si potrebbe arrivare anche a 40. E perché sono così tanti? È un concetto che SpaceX ha recuperato dal programma spaziale sovietico degli anni 60, che, diciamo, in generale non ha avuto molto successo, ma come idea era pazzesco. Perché nel momento in cui ho pochi motori, diciamo, sì, se ne perdo uno, posso ancora farcela, se ne perdo due, stiamo a vedere, se ne perdo tre, no, la missione è fallita. Al contrario, il Super Heavy booster si basa su così tanti motori per una questione di ridondanza. Se una cosa fallisce, l'importante è che ci sia qualcos'altro che può fare il suo lavoro. Pensate che ogni motore Raptor ha circa 2000 kN di spinta, che se la matematica non è un'opinione, porta il Super Heavy attuale ad avere più di 68 MN di spinta, che sono tantissimi, considerato che il Saturn V, il razzo che ci ha portato sulla Luna, ne aveva la metà. Per farvi un paragone che possiate capire, questo coso qua è 283 volte più potente di un Airbus A320, quindi il normalissimo aereo di linea, che comunque non è poco potente. Pensate che la nostra Starship sarà in grado di portare 150.000 kg di materiale in orbita. Quindi parliamo veramente di un razzo rivoluzionario in tutto e per tutto. E sapete cosa c'è di altro di rivoluzionario? che se io la apro, salta fuori la borraccia più geniale dell'ultimo periodo, la SpaceX delle borracce. Non ve l'aspettavate questa, eh? Parliamo infatti di Airrap, signori. Purtroppo non decolla, non va da nessuna parte, ma se non la conoscete ancora, fa una cosa veramente assurda. Infatti quella che c'è dentro è normalissima acqua, o meglio, visto che siamo in tema scientifico, H2O. E questo qua sopra si chiama Pod. Ce ne sono veramente un'infinità di tutti i gusti possibili immaginabili. La genialità è che così è chiusa, quindi se io vado a bere, bevo dell'acqua che sa di acqua. Se vado a tirare sul Pod, si apre. Quando vado a bere, magicamente, l'acqua prende il gusto del Pod. In questo caso, te ha la pesca. E si tratta solo di uno stupido inganno al nostro cervello. Infatti noi beviamo acqua più dell'aria, se sentite, che ha il profumo di quello che c'è nel Pod. Ma il nostro cervello pensa che abbia un gusto. Ecco, grazie all'olfatto retronasale, noi riusciamo a percepire il gusto, con l'olfatto anziché con il gusto. Poi semplicemente espegliamo tutto dal naso, ingeriamo solamente acqua, e abbiamo fregato il sistema perché stiamo bevendo della semplicissima acqua. Vi lascio ovviamente il link qua sotto in descrizione con relativo sconto. Provatela, parola di Yaki. Bene, quindi abbiamo visto di cosa è fatta, vediamo come funziona. Tutto parte ovviamente attaccato sulla rampa di lancio. Il decollo è molto semplice, come in tutto. La parte complicata è sempre l'atterraggio. Viene caricato tutto con i combustibili che sono a delle temperature senza senso. Pensate che l'ossigeno liquido è a meno 207 gradi, mentre il metano liquido è a meno 180, questo per una questione di spazio, di pressione, di mille caratteristiche che non ho idea di cosa siano. Per quello prima di ogni lancio si vede il fumo bianco, è semplicemente il razzo che è freddissimo, e quello è vapore acqueo. Contro la rovescia, 5, 4, 3, 2, 1, boom, si decolla. Di fatto quindi il super heavy serve solo per portare tutta la baracca in orbita, quindi la parte dove serve più energia ovviamente è per uscire dall'atmosfera, e lui sprigiona tutta questa potenza incredibile. Dopodiché si separano. Cosa succede a Starship? Ne parliamo dopo. Il super heavy ricade verso la terra, tra l'altro questa è un'altra cosa assurda, nel senso che lui non ha uno scudo termico e nella prima fase di caduta accenderà dei motori, non tanto per rallentare, ma per sfruttare il gas che esce dai motori come scudo termico. Invece sfruttando queste alette si direzionerà e atterra su se stesso? No! Atterra con un paracadute? No! Atterra in mare? No! Verrà preso al volo da una torre gigante con una pinza. E sì, questa è la migliore idea possibile. Non è una cosa così strana, perché in realtà tantissimi ci hanno pensato a farlo, addirittura anche la NASA negli anni 60 con il Saturn V. Voleva riprenderlo in aria tramite un elicottero, una cosa che poi, vabbè, non ha avuto successo, neanche è stata mai provata, perché veniva buttato più o meno tutto. Il super heavy booster invece riatterra sulla rampa di lancio da cui è partito e viene acchiappato da due bracci prima di toccare terra. Questo ha molto senso, perché uno dei problemi principali a cui va incontro SpaceX nel momento in cui i suoi razzi atterrano è proprio quello delle gambe. Abbiamo visto spesso fallire le gambe di atterraggio dei Falcon 9 e in quel caso c'è poco da fare, il razzo è perso perché cade, esplode. In più su un razzo così grande come il super heavy aggiungere almeno 6 gambe ammortizzate voleva dire aggiungere quasi un 10% di peso in più, quasi troppo. Quindi il super heavy atterrato si potrà poi riutilizzare, la starship nel mentre sta andando in orbita e in base alla missione farà quello che dovrà fare. Se fare una semplice orbita della Terra, andare sulla Luna o andare su Marte o nello spazio profondo. In questo caso la cosa rivoluzionaria è che per la prima volta si potrà fare rifornimento. Infatti due starship si potranno agganciare in questo modo e si riuscirà così ad avere una navicella già in orbita con un sacco di carburante che potrà andare lontanissimo. Perché il problema di tutti i razzi classici è che se devo partire con tutto il carburante dalla Terra è come se andassi in giro con un motorino con l'idea di fare tutto il giro del mondo portandomi dietro un carretto pieno di benzina. Quindi fa quello che deve fare, se deve atterrare sulla Luna, atterra sulla Luna, se deve atterrare su Marte, atterra su Marte. La parte difficile come al solito è il rientro nell'atmosfera terrestre perché la Terra ha un sacco di gravità e l'atmosfera è super densa. Qui entra in gioco lo scudo termico e l'idea è di fare banalmente planare Starship utilizzando le alette per regolarla esattamente come faceva in realtà lo Space Shuttle solo che se lo Space Shuttle poi atterrava con il suo carrello esattamente come se fosse un aereo la Starship all'ultimo sfruttando i motori che si possono regolare farà questa manovra si girerà e o atterrerà o verrà presa anche lei dalla Megagru e sarà in questo caso riutilizzabile. Ora tutto molto bello ma sulla carta a che punto siamo? Molto più avanti di quello che sembra anche se manca ancora un sacco di lavoro. Considerate che il primo test è stato fatto solamente nel 2019 di questo barilotto che si chiama Star Hopper che ha volato per 150 metri. Poi altri test i primi test veri e propri di Starship con l'idea di fare un volo di una decina di chilometri e dove si è dimostrato che effettivamente la Starship poteva planare e poteva fare la manovra di belly flop con poi i test di atterraggio anche se c'è stata qualche esplosione nel mentre. Infatti SN8 è esplosa nell'atterraggio perché era troppo veloce. Stessa fine per SN9. SN10 è atterrata un po' troppo velocemente infatti è esplosa otto minuti dopo o meglio come dicono in SpaceX c'è stato un RUD disassemblaggio rapido non previsto e nel maggio 2021 finalmente la prima Starship è atterrata con successo. Da lì fino a pochissimo fa non è successo nulla perché la FAA quindi la Federal Administration Aviation l'ente che controlla tutti i cieli degli Stati Uniti non dava più i permessi aveva bloccato tutto. Poi hanno fatto mille varie controversie per il clima, non per il clima, per la flora locale infatti ci sono le immagini di SpaceX che cura le tartarughe sulla spiaggia vicino a dove fanno partire i razzi poi però gli fanno esplodere le cose vicine quindi boh. Arriviamo quindi ad oggi febbraio 2023 primo test dei motori del Super Heavy e 20 aprile 2023 settimana scorsa per chi sta guardando questo video adesso quando esce abbiamo il primo test completo dove tutta la baracca è decollata con successo anche se si sono spenti dei motori sulla carta si sarebbe dovuta raggiungere l'orbita nella realtà dei fatti tre minuti e poco più dopo il lancio quando i due stadi si sarebbero dovuti separare non si sono separati il tutto ha iniziato a roteare in maniera incontrollata non è chiaro ancora cosa sia successo ma probabilmente sono stati fatti saltare in aria per una questione di sicurezza molti hanno detto che no è esploso e quindi è andata male ma le cose devono andare male se no come fai a sapere cosa può andare male successivamente quando magari hai un carico molto più prezioso quello di vite umane quello che SpaceX voleva vedere era effettivamente che il razzo si alzasse dalla rampa di lancio e questo è avvenuto addirittura il razzo ha raggiunto max Q ovvero la massima pressione aerodinamica quindi sappiamo che tutto questo aggregato può resistere alle enormi sollecitazioni che crea la nostra atmosfera le cose nei test devono andare male è come le squadre di Formula 1 quando vanno via dai test se non si è rotto niente sono più preoccupate di quando sono arrivate perché vuol dire che non sanno qual è il limite di quello che stanno costruendo pensate che Elon aveva proprio dichiarato se non esplode sulla rampa di lancio è un successo è proprio questo l'approccio geniale di SpaceX continuare a sperimentare sperimentare e sperimentare e lancio dopo lancio acquisire dati sempre più dati sempre più dati per migliorare e per poi riuscire a effettivamente un giorno forse mandarci su Marte il metodo di lavoro in passato era creare il razzo migliore al mondo costosissimo incredibile che se poi saltava in aria era un casino prototipando in questa maniera con come abbiamo visto dei razzi che sono relativamente facili da costruire nel senso che SpaceX ha già pronte altre Starship da lanciare un altro Super Heavy praticamente stanno sfornando razzi un giorno dopo l'altro e quindi in questo modo per tutte le cose che abbiamo detto riescono veramente a essere dieci passi avanti rispetto a razzi come l'SLS di cui ci ho fatto un video andate a recuperarvelo che per quanto ad oggi sia l'unica cosa in grado di portarci sulla Luna funzionante perché Starship ad oggi non funziona ancora nasce proprio come concetto vecchio in questo caso invece si sta proprio rivoluzionando il concetto di viaggi spaziali non solo pensate che per dire un altro utilizzo possibile della Starship sarà per fare i trasporti punto a punto sulla Terra quindi fare che ne so New York Sydney in poco più di 40 minuti quindi insomma infinite sono le vie di Starship stiamo a vedere i prossimi test come andranno magari un giorno riuscirò a portarvi in Texas a vedere effettivamente questi razzi partire chi lo sa sicuramente per rimanere aggiornati anche di tutti i lanci di tutte le cose di tutte le novità giorno per giorno mi raccomando andate a seguire Tegdale anche su Instagram e su tutti gli altri social LinkedIn Twitter Facebook sì c'è ancora qualcuno che lo usa ancora un super grazie al buon Filippo andate a seguire anche lui perché lui posta un sacco di cose tema spazio se siete appassionati link in descrizione e noi ci vediamo prossimamente con prossimi razzi prossime esplosioni e prossime cose ciao 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 ciao